Il 26 e 27 ottobre prossimo si svolgerà Paglieta, organizzato dalla Proloco con il patrocino del Comune, la decima edizione di Sentieri d'Autunno. Saperi e sapori, una manifestazione ormai affermata, le cui novità sono spiegate ai nostri microfoni dalla Presidente Giuseppina D'Angelo. Allora, anche quest'anno, sì, vi aspettiamo nel centro storico di Paglieta, questo piccolo borgo che accoglie ormai da dieci anni quasi 6.000 persone in due giorni. Facciamo rivivere i vecchi sapori di una volta e anche un po' i saperi di una volta. Ci saranno delle botteghe, ci saranno delle degustazioni, vi aspettiamo numerosi e ci sarà anche qualche piccola novità, però non voglio svelarvi i segreti. Le cantine saranno cantine locali, tutte del posto, Paglieta e dintorni. Quindi vi aspettiamo il 26 e 27 ottobre, spero sarete numerosi come sempre. Questa manifestazione vuole anche far conoscere le stradine del centro storico con i palazzi anche storici importanti, tra cui ricordiamo anche quello dove c'è la vostra sede. Sì, diciamo che principalmente questa manifestazione è portata proprio per valorizzare il centro storico di Paglieta, per far conoscere questo piccolo borgo, Palazzo Piccirilli, dove noi abbiamo la sede, che è un palazzo storico dove si svolgono molte attività anche durante la settimana e non solo Palazzo Piccirilli, c'è la chiesa a fianco, il campanile, molto storico. Sì, la cosa principale di questa manifestazione è far vedere proprio questo centro. Gli espositori saranno tutti della zona di Paglieta oppure verrà qualcuno da fuori? Allora, quest'anno gli espositori saranno principalmente di Paglieta, qualcuno, sempre comunque nei dintorni, sì, ci sarà, perché alcune aziende Paglieta non le abbiamo, tipo apicoltori, Paglieta non si interessa, abbiamo più oleifici, mulino, ci sarà quest'anno il mulino elettrico di Di Lallo, che parteciperanno anche loro a questa manifestazione, la cantina sociale di Paglieta sempre presente e i vari oleifici. Le attività della Proloco ovviamente non si fermano soltanto a questa iniziativa, ma nel corso dell'anno avete anche altre. Sì, la Proloco organizza sentieri d'autunno adesso, poi per Natale organizziamo un mercatino di Natale, la Befana in piazza alla mattina della Befana e poi ricominciamo l'anno con il Carnevale, due giorni in piazza con i bambini, la passeggiata ecologica a maggio e poi abbiamo la Sagra dei Dolci e il Passaparty ad agosto. E il 10 di agosto sempre c'è il concerto sotto le stelle. Ricordiamo in conclusione a chi non è di Paglieta le vostre date e come fare per raggiungervi. Allora, le nostre date comunque sono su Borghe e Sagre e comunque c'è sempre l'evento su Facebook. Per qualsiasi cosa il comune di Paglieta conosce sempre le nostre manifestazioni e c'è sempre la data sul sito del comune. Allora, per chi viene da fuori è semplice, uscito dalla superstrada segue la strada a destra Paglieta e in 10 minuti siete su. Chi viene dal mare lo stesso riesce a trovarci molto facilmente. Dalla montagna è ancora più semplice perché scende al fondo valle e poi comunque deve risalire su verso Paglieta da Val di Sangro.